La situazione sanitaria qui in Germania sta letteralmente collassando. Ragazzi, io sono 8 anni che vivo qua in Germania e le cose stanno precipitando in modo spaventoso. Vi faccio un esempio che mi è successo veramente di recente. Vi siete visti in uno dei video, se non ve lo siete visto andatevelo a vedere, in cui vi parlo della mala sanità o comunque dell'esperienza negativa che io ho avuto qua col dermatologo a Berlino. Io ora ho ripreso un appuntamento proprio qualche giorno fa per andare a fare uno screening dei nei e ho preso l'appuntamento, mi hanno dato a tre settimane un appuntamento, quindi anche abbastanza velocemente. Sono andato in questa nuova clinica, perché io nella vecchia non ci metto più piede, data quella brutta esperienza. Arrivo alla reception dalla signorina e mi dice No, tu te ne vai a casa, non accettiamo nuovi pazienti. Dovevi mettere, quando hai selezionato l'appuntamento, che eri un paziente esistente. Al che io ho detto, scusi ma non c'è nessuno di là dal dottore, non posso fare la visita. E lei mi ha detto, no, no, assolutamente no, non accettiamo più nuovi pazienti. Quindi sono tornato a casa e ho cercato un nuovo dottore. Il problema è che cercando online, anche su Doctolib, che è molto famoso qua in Germania, non si trovano, non si trovano appuntamenti. Poi, non solo quello è il problema, ma se tu sei già cliente di una clinica, allora ci puoi andare. Se sei un nuovo cliente, qui in Germania, e a Berlino è un casino ragazzi, avrai molta difficoltà ad essere accettato. Quindi, non è solo difficile trovare un appuntamento se tu sei già cliente, ma proprio nelle cliniche non ti accettano, perché c'è un numero massimo. E questo è sempre stato così, non è una grande novità. Se siete anche voi da tanto in Germania, o comunque anche a Berlino, lo sapete che è così. La cosa semplicemente sta degenerando data la mole di persone che arrivano qui a Berlino e il numero di dottori che è comunque limitato. Quindi, questo sta portando un po' a un collasso. La seconda cosa è che gli appuntamenti, questo lo potete verificare anche voi, se prendete per esempio Doctolib, durano sempre di meno. Cioè, voi vedete che avete un appuntamento a 10 minuti, il prossimo altri 15 minuti, poi altri 15, altri 15. Quindi, capite voi che l'appuntamento dal dottore ha questi slot ogni 15 minuti, che è una cosa che per me è una novità. Cioè, non l'avevo mai vista qua a Berlino. E infatti, sono stato una volta dal dottore e appunto, cosa fa? Ti guarda, il dottore ti guarda, neanche ti saluta, perché hai 15 minuti di tempo, quindi scrive il tuo problema che hai al computer, poi ti guarda due secondi e se tu gli dici, guarda, mi guardi questo neo qua, il dottore te lo guarda, ti dice, ok, è a posto, poi gli dici, scusa, ma ho anche quest'altro problema qua. No, un altro problema? Solo un problema puoi parlare. Il secondo problema è che devi riprendere un appuntamento e ne parliamo la prossima volta. Cioè, questo è successo realmente. Ora, tu vai dal dottore, aspetti un mese di tempo e va bene, e poi gli porti un neo, questo neo viene visto, ma se c'hai due nei, no, perché il secondo neo è un altro problema diverso, e quindi devi ristrisciare la carta, devi ripagare e devi riaspettare un altro mese. Tutto questo in 15 minuti, con la persona che neanche ti saluta. Cioè, quindi, l'attenzione alla persona, non c'hai 30 minuti, 45 minuti di consulenza che magari uno si aspetta, no? No, perché ti devono buttare fuori, perché c'è il prossimo, perché la clinica è intasata e devono fatturare, devono fare veloci. Quindi, ragazzi, io lo so che in Italia anche lì è un delirio, ma in Germania, o perlomeno a Berlino, questa roba sta collassando. Sta arrivando veramente al collasso. Questo, però, non viene dal nulla. Questo viene soprattutto, diciamo, è accaduto soprattutto dopo il Covid. Quindi ci sono stati comunque dei tagli alla sanità qui in Germania, quindi i medici non sono stati molto contenti di questa cosa. La burocrazia comunque è parecchio, parecchio onerosa per i medici, quindi magari spendono 15 minuti a guardarti, ne spendono altri 30 a scrivere, al computer, a mandare la ricetta, alla signorina che poi te la stampa, eccetera, eccetera. E devo dire che comunque qua in Germania sono sempre col braccino tirato. Cioè, ovviamente, loro ti guardano, poi ti mandano a casa, tu ritorni, ristrisci la carta, ripaghi, eccetera, eccetera. C'è comunque, vi devo dire, c'è comunque un nuovo trend che ho visto in questi otto anni qua che riguarda la privatizzazione. Questo non è una sorpresa perché sta succedendo anche in Italia, ma sta succedendo anche qua. E ci sono moltissimi, moltissimi nuovi dottori che richiedono l'assicurazione privata. Come voi sapete, qui in Germania c'è la pubblica in cui il 95%, attenzione, il 95% della popolazione in Germania ha la pubblica, quindi assicurazione pubblica, e poi c'è l'assicurazione privata. Solo il 5% usa l'assicurazione privata. Vi dico questa parentesi. Per accedere alla privata devi avere almeno, diciamo, è una cifra variabile, ogni anno aumenta, ma diciamo 70.000 euro. Quindi devi guadagnare 70.000 euro l'anno e poi accedere alla privata, se vuoi. Però la privata, poi dopo non puoi tornare alla pubblica se tu cambi idea, e la privata sì, accedi al medico istantaneo, vi dico istantaneo, cioè appuntamenti se io guardo adesso lo prendo per stasera oppure per domattina. Quindi veramente fantastico. Però devi pagare prima di tasca tua e poi fai la richiesta all'assicurazione privata per il rimborso. Diversa è la pubblica in cui invece tu strisci la carta, non paghi niente, e poi anche una copertura magari per il marito o la moglie e il figlio, in caso anche se perdono il lavoro. Quindi la pubblica, diciamo, ha dei vantaggi più grandi. Però, come vi ho detto, essendo il 95% della popolazione che ne fa utilizzo, sta veramente andando al collasso. Quindi c'è molta, molta più privatizzazione qua in Germania e questo sta portando a questo risultato. Sempre, sempre più difficile trovare un medico, un medico che sia competente, un medico che ti curi, un medico che sia disponibile nei tempi e questo sta portando a una situazione in cui non sai più che fare. Ma vi dico, puoi trovare degli appuntamenti a Berlino anche in tempi brevi, però ti devi fare un'ora e mezzo di treno. Cioè, quindi, io me ne devo andare magari in wedding alto, dove ci stanno nascendo nuove nuove cliniche e io sto al sud e mi devo fare un'ora e trenta di mezzi di trasporto. Quindi, sta veramente prendendo una piega, una piega allarmante e non so, cioè, cosa succederà tra 5-10 anni qua. Cioè, che succede? Non ci curiamo più? Quindi, ragazzi, questa è un po' la situazione che siamo già al collasso, quindi non so cosa potrà andare peggio di così. Io sto ancora cercando l'appuntamento dal dermatologo e vediamo che succede. Vi do un solo consiglio. Se siete a Berlino o se siete in Germania, mi raccomando, andate in più cliniche possibili, soprattutto quando aprono, perché una volta che siete finiti nel loro sistema della clinica, voi siete per tutta la vita clienti, anche se ci andate una sola volta. Il che vi permetterà, se poi queste cliniche sono sature, di avere sempre accesso. Guardate, è un trucco che funziona, ve lo assicuro. Alla prossima!